Top 5 dei giochi periferiche gadget più venduti da GameStop Allora partiamo ovviamente dal quinto posto e è calato devo dire in classifica però rimane e stiamo parlando di Deathloop quindi questo titolo sicuramente particolare Quarto posto ne abbiamo già parlato stiamo parlando infatti delle Xbox Stereo Headset quindi queste cuffie che continuano effettivamente ad essere acquistate in maniera massiva Questo terzo posto finalmente abbiamo qualcosa di diverso perché non ne abbiamo mai parlato ovviamente nelle settimane scorse stiamo parlando di Hot Wheels Unleashed Secondo posto anche questa volta una novità in realtà ovviamente già se ne parlava Pokémon Diamante Lucente quindi questo appunto remake di questo apprezzatissimo titolo Andiamo al primo io ogni volta devo fare la battuta perché siamo per la quarta settimana di fila Con FIFA 22 ancora una volta segno che sicuramente c'è una grande attesa